Eccoci qua Mr. Gava, bisogna accettare il verdetto del campo, 1-0 che ci penalizza molto in questa fase del campionato. Cosa pensa, come è stata la partita? Inizialmente bisogna essere un po' più attenti sulle native perché non si può prendere gol dopo quattro minuti dell'inizio del primo tempo eravamo un po' svogliati e in queste categorie qua soprattutto bisogna essere un po' più smaliziati, un po' più attenti nelle situazioni. Il primo tempo mi è sembrato come parte offensiva del Portuglaro tutto nel tiro di Mazzarella bravo il portiere e lì forse se si pareggiava era tutta altra partita, però come ha detto lei il portuglaro sembrava un po' svogliato oggi. Sì, ma se qui in mano si va da nessuna parte, bisogna essere consapevoli che ci vuole spirito di sacrificio per tutte le partite, altrimenti si fa fatica. Dopo anche in una situazione a livello tattico non ci muoviamo senza palla che diventa ancora più difficile a trovare spazi e a trovare situazioni di gioco. Sì, abbiamo avuto anche Verdi che ha salvato il risultato 2-0, insomma penso che non abbiamo da recriminare molto solo su questa partita come occasioni non sfruttate. Bravo il dottore. Dobbiamo recriminare anche la traversa che abbiamo preso su una palla inattiva sempre gli ultimi 6-7 minuti che abbiamo avuto un'opportunità per pareggiare e logicamente abbiamo fatto molto poco per cercare di ribaltare il risultato. Spero che ci servi da lezione in modo da ritrovare un po' di spirito, un po' di più mentalità nel giocare, nel vincere le partite. Sì, allora per chiudere, le prossime due partite sono con due squadre fortissime che stanno avendo un buon momento. Poi si giocherà con due trevisiani che sono ai primi posti con la capolista che oggi mi sembra abbia perso. Sono tutte partite difficili a prescindere sulle situazioni in classifica perché purtroppo non ci sono partite facili da affrontare se anche con le ultime vai a rischio di fare delle figure magre se l'approccio alla gara non è ottimale. Voltiamo pagina e appuntamento a tutti al Mecchia contro il Conigliano domenica, grazie mister. Arrivederci e buona sera.